L'Osservatorio elettorale del Consiglio regionale, diretto dalla dottoressa Iannelli, svolge un'attività importante nelle settimane precedenti il voto. Ecco esattamente, cosa è stato fatto in questi settimani, in questi mesi, in preparazione delle elezioni? L'Osservatorio elettorale innanzitutto ha una sezione dedicata sul sito del Consiglio regionale, nel quale sono state raccolte tutte le documentazioni legislative necessarie a supporto delle elezioni, non soltanto regionali, ma anche quelle europee e comunali. Quindi sono stati predisposti dei vademecum a disposizione di tutti i cittadini che spiegano come si svolgono le elezioni e poi è stata fatta ovviamente un'attività di supporto a tutti i consiglieri regionali, ai gruppi consigliari, anche al fine dell'applicazione della legge 21, che è la legge che prevede l'esonoro delle firme in caso di rappresentanza all'interno del Consiglio. Quindi insieme anche agli uffici della Giunta sono state predisposte le istruzioni che poi sono dell'appendice alle istruzioni del Ministero.